ciao ragazzi qui è Flesh81 vi chiederete ma cosa ci farà vedere oggi Flesh81 action configured, meatcloth, carte di Yu-Gi-Oh! niente di tutto questo semplicemente faccio questo video per porvi le mie scuse perché per un po' non ho fatto video ma c'è un motivo non mi sono dimenticato di voi ragazzi semplicemente sto facendo un trasloco mi sto trasferendo in un'altra casa questo è il terrazzo dove Flesh81 stava in mutanda e fumava d'estate e poi qui questo l'avreste visto molte volte era il regno della coca pasticciona che anche lei vi saluta e anche per questo che non avete visto anche il video suo e andando avanti faccio vedere un po' come la casa dove sono stato per tre anni qui è la postazione scurcia un casino in portaria ma è normale questa è la postazione pizzi dove faccio molto video poi girandomi qui c'era il televisore girandomi io ora vi faccio vedere che stanno bene un po' lento qui c'è dove c'era prima il televisione aia che è rotto dai gatti colpa loro qui c'era dove c'era il divano dove io mi ci metteva a gioa ok infatti noterete che nei primi video che ho fatto facevo vedere la collezione di videogiochi qui era pieno di videogiochi come vedete non ce n'è più nemmeno uno perché ora sono tutta nella casa nuova di qua c'è il reparto notte scusate il casino ma sto facendo il trasloco quindi sarà un po' incassinata ma che se ne di qua c'è il bagno che ora è chiuso e comunque al più presto vi farò metterò altri video farò altri video tranquilli ragazzi fatemi fare questo trasloco e continuo a fare video sempre per le forze se tutto va bene farò anche qualcos'altro non vi anticipo nulla pescare amazzia questo è diciamo l'esterno della casa dove sto io se volete saperlo è via Eva Monteverde il vero motivo che non devo da qui viene me lo dio ma mi fanno avvicinare al camera me perché qui la gente è veramente dei rompicazze allucinante cioè ho provato a venderli a regalare o me le compra nessuno me le piglia nessuno se volete piglia di voi mi fate un'offerta vi sotto le regalo ve le regalo anche un blocco la vostra che ora rompono di più le scatole ragazzi sapete cosa è quel filo che non so se si vede nel video questo filo va da quando l'ho messo mi stanno mi hanno preso i coglioni messi in nutrita carne e me ne hanno veramente macinate cioè io non ne posso più o me ne vado o flash 81 diventa omicida e finì in galera per coprire un deficiente mi va in prova io quando facevo i video io quando facevo i video i video i video li farò vedere in che modo le facevo uscivo di qui venite facevo questo pezzo e sempre via Eva Monteverde se non l'avete capito che ho messo la mia? il travo qua ok ma dire se i pweisen li fa m lipsi e anche qua tosene cittadini i fesili a il sud tu eh Sì. Ma pensa che a voi ragazzi stessi scherzati Se dite di no non ci credo Non ci credo mai Ecco, qui con la zocca perché non ci mancano mai Sempre scatoloni su scatoloni Come potete vedere, e qui lo vedete meglio Io vi faccio il trasloco Qui i modellini cavaliere non ci sono più Vedete tutto qua, qui c'è un cavallo lo zodiak mit I mit da qui si sono postati qua Tutti quei bellini carucci e quelli, vedi? Uno scatolone, due scatolone Eh? Meglio due che uno Come il maxibollo O come il kinderbueno Sempre meglio due Via Questo è tutto, poi vi farò vedere anche com'è Casanova quando L'ho sistemata a moda ragazzi Per diciamo la parte 1 del video è finita Vi aspetto per la seconda parte che sarà nella fase nuova Ok? Quindi qui da Flash81 è tutto Ciao!